ariete molti pianeti a sostegno delle vostre iniziative cercate di non disperdervi su troppi fronti ma di affrontare le cose senza affanno trovate il ritmo giusto e poi tutto sarà più facile non adagiatevi sulle abitudini e date spazio alla creatività toro chiarite un malinteso i rapporti con un collega torneranno così ad essere più armonici ed equilibrati nel lavoro non traete conclusioni affrettate e decidete solo dopo aver verificato intensa emotività venere vi invita a dare spazio alle ragioni del cuore gemelli la fretta di concludere potrebbe compromettere il buon esito di una trattativa lasciatevi ispirare da mercurio e varate un progetto solo più avanti in famiglia evitate di assumere atteggiamenti vitimistici datevi da fare per cambiare l'atmosfera cancro un approccio nuovo con i colleghi di lavoro gioverà alla buona armonia dei rapporti in amore venere favorevolissima vi darà la vibrazione giusta e la necessaria dose di intraprendenza sarete voi a dover fare il primo passo però ricordatelo leone la persona amata si allontana solo momentaneamente sdramatizzate e aspettatevi un riavvicinamento più che mai stimolante curate un disturbo psicosomatico che da qualche giorno state avvertendo e dite sì ad un vostro desiderio servirà a sciogliere la tensione vergine meglio rimandare una decisione lavorativa i tempi non sono ancora maturi dovrete vivere con maggiore spontaneità e distensione i rapporti interpersonali e in amore dovrete evitare gli accumuli emotivi aprendo via un dialogo senza veli cercate di essere più autentici bilancia in famiglia accantonate un progetto irrealizzabile e concentrate le vostre energie su soluzioni di immediata attuazione avete la necessaria lucidità mentale scorpione unabile suggerimento per migliorare le vostre finanze mercurio vi rende più che mai perspicaci ed intreprendenti affrontate una trattativa di lavoro senza bruciare i tempi scoraggiate invece la curiosità di un conoscente che manca di discrezione atmosfera piacevole per i sentimenti non dimenticate una ricorrenza sagittario sole mercurio e marte vi rendono dinamici e pieni di idee createvi spazi personali per esprimervi al di fuori di schemi troppo rigidi buone notizie vi regalano ottimismo venere però vi vuole più decisi non date credito ad un pettegolezzo e continuate per la vostra strada dovete assecondare il vostro partner capricorno molti impegni ed iniziative da portare avanti non lasciatevi trasportare da un esagerato perfezionismo se volete evitare di affaticarvi più del necessario ritrovate il sorriso in compagnia di vecchi amici venere vi aiuta ad affrontare il dialogo con chi vi circonda acquario migliora la capacità di captare umori e reazioni altrui le vostre aspettative sul versante dei rapporti interpersonali si realizzano nuove amicizie e ottimo feeling con chi fa progetti insieme a voi marte sole mercurio vi danno comunicativa difendete i vostri equilibri affettivi venere vi consiglia però di essere un pochino più elastici pesci dovete fare sempre attenzione a non farvi contagiare dal nervosismo degli altri i pianeti consigliano di rimanere centrati su voi stessi in ascolto delle vostre più autentiche necessità assecondate un'iniziativa che vi aiuta a realizzare un vostro sogno in amore invece prendete il largo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti